I ladri si sono introdotti dalla finestra della villetta situata a Contrada Sant'Eustachio ad Avellino e hanno asportato oggetti in oro e contanti. Il colpo è stato messo a segno domenica sera, intorno alle 21, quando in casa non c'era nessuno. I proprietari dell'abitazione si sono accorti della saccheggia, una volta rientrati a casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo nella zona alla ricerca di tracce utili per le indagini. Dopo un periodo di calma apparente, torna la paura, nelle contrade del capoluogo, nel recente passato meta di incursioni di ladri specializzati nei colpi nelle case. Gli ultimi ride dei topi di appartamento si erano registrati lo scorso 4 dicembre in Via Tedesco e nei primi giorni di novembre a Contrada Moretta. In azione una banda di ladri picconatori che per accedere negli appartamenti hanno sfondato gli infissi e i cancelli. L'altro sabato sera invece, nel mirino di una banda di malviventi, è finito il 3B Office a Piano Dardine. Nel video ripreso dalle telecamere di videosorveglianza le sequenze dell'assalto, un gruppo di cinque ladri incappucciati e attrezzati di faretto che dopo essersi introdotti nei locali dell'azienda specializzata nella fornitura di attrezzature per ufficio, sono riusciti ad asportare la cassa automatica per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto giunta fino nei pressi dello stabile. Una settimana fa era stato il capannone della talento Cash & Carry, sempre a Piano Dardine, a pochi metri di distanza dal 3B Office, a finire nelle grinfie del commando. Sempre in cinque i ladri che erano riusciti a trafugare la cassaforte dopo aver forzato il portone sul retro del capannone.